... Ma come dice così? C'è pubblica? C'è attraverso il muro? Attraverso il muro? Attraverso il muro? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Cosa? ... ... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? Ma che cazzo? ... ... ... Che cazzo sei? E spara Che coglioni E niente ragazzi Quora mi ha capito Per parti Recipitini Recipitoni Madonna Penso di skill Che cazzo sei? 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 Che cazzo sei?